Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoge e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, Gesù mette in guardia i Suoi discepoli di allora e di ogni tempo dalla persecuzione. Per il fatto che siamo di Gesù, per il fatto che predichiamo quello che predica Gesù, l'amore a tutti, l'amore ai nemici, il mondo ci odia. Un cristiano che non è odiato dal mondo, un cristiano che non è perseguitato, evidentemente è cristiano soltanto di nome. Perché il cristiano per sé stesso è di scandalo al mondo. È di scandalo. Perché quando viviamo veramente come nostro Signore vuole, nella virtù che nostro Signore ci chiede, nell'umiltà, nella pazienza, nella purezza di cuore e di corpo, beh, il mondo questo non lo può sopportare. E allora, quando siamo veramente cristiani, ecco, il Signore ci mette in guardia. Verrete consegnati a coloro che hanno potere. Cioè, alle sinagoghe, alle prigioni, vi trascineranno davanti a re, governatori, a causa del mio nome, davanti a magistrati, a tribunali, a pretori. Di ogni e di più, nel corso dei secoli, abbiamo visto questo realizzarsi, più e più volte. Ma Gesù gli dice, allora avrete occasione di darmi testimonianza. Come si dice testimone in greco? Si dice martiureo. Il martire è il testimone. Oggi nel parlare comune, martire è qualcuno che versa il suo sangue, ma in realtà questa accezione di significato, questa accezione di significato che è ormai comune, gli viene dal fatto che i martiri di Cristo hanno testimoniato fino all'effusione del sangue. Sono stati veramente messi davanti a re e governatori. E un caso emblematico e molto bello, e providenziale, è proprio quello della Santa che festeggiamo quest'oggi, Santa Caterina d'Alessandria, la quale è stata martirizzata nell'ultima persecuzione, grande persecuzione, dell'impero romano, sembrerebbe nel 305, nel 306, fu portata dinanzi all'allora imperatore della zona orientale, Massimiano, o forse Massenzio, uno dei due, a seconda, però, l'imperatore era ad Alessandria, e fu portata dinanzi a lui, perché lui aveva, aveva ordinato di sacrificare, in suo onore ai falsi dei animali e sacrifici, lei si rifiutò, fu fatta condurre, dinanzi a lui era una fanciulla di bell'aspetto, e colto forse da concupiscenza, o chissà provò a farla convincere, chiamò alla corte filosofi e i sapienti di Alessandria per convincere questa giovinetta giovinetta di sacrificare, che era giusto sacrificare per l'imperatore, se non che la giovinetta ebbe modo di sperimentare esattamente quello che Gesù promette qui. Non vi preparate la vostra difesa, io vi darò parole e sapienza, e tutti i filosofi che erano stati chiamati per convertirla al paganesimo, si sono convertiti al cristianesimo, hanno ammesso la verità delle parole di questa giovinetta, e per tutta risposta l'imperatore li ha subito martirizzati, però non si voleva dare per vento, cioè li ha uccisi tutti, non si voleva dare per vento, allora sembrerebbe che voleva sposarla, lei si è rifiutata perché era di Cristo, e allora fu torturata, uccisa a morte, uccisa a morte. Ecco, ha testimoniato Cristo, e in realtà lo ha testimoniato allora, ma continuo a testimoniarlo, perché? Perché la religione cristiana è stata costruita proprio sul sangue, sul sangue di Cristo, che ha versato il suo sangue in croce, come libagione, come prezzo della salvezza di tutti gli esseri umani, e sul sangue dei martiri, che hanno testimoniato Cristo. E continuo a testimoniarlo, Santa Caterina d'Alessandria, perché? Perché ancora oggi, a distanza di 1700 anni, noi la ricordiamo, e le chiediamo di pregare e intercedere per noi. C'è stata una grandissima devozione a Santa Caterina nella storia della Chiesa, grandissima. Santa Metilde di Hackerborn, una mistica tedesca, nel libro della Grazia Speciale, lei racconta queste visioni che aveva praticamente da santi e un giorno le appare Santa Caterina vergine, martire, nella sua festa. Lei la saluta cantando un'antifona gregoriana e poi le chiede di insegnarle cosa significano le parole che si cantano nel giorno della sua festa. Si cantavano il Signore ha desiderato il tuo volto e la tua bellezza. Che cos'è questo volto che il Signore in te ha desiderato? Chiede Santa Metilde a Santa Caterina. E Santa Caterina risponde il mio volto è l'immagine dell'adorabile Trinità che il Signore in me ha desiderato. perché non l'ho mai guastata con gravi peccati. La mia bellezza è quello splendore e quella dignità che Cristo diffonde sopra i Suoi fedeli ornandoli della ricca porpora del Suo sangue. Sarete odiati da tutti nel mio nome. Il cristiano viene odiato da tutti ma porta in sé l'immagine impressa della Santissima Trinità Dio Uno e Trino che è amore. Il cristiano è odiato ma non odia. Non odia. Non apre il cuore all'odio. Perché l'odio è la morte dell'anima. È la morte di Dio nell'anima. Ecco che la bellezza dell'anima è la presenza dell'amore di Dio. E allora Gesù qui non dice reagite con violenza a quelli che vi perseguitano. No. Datemi testimonianza. Come? Con la stessa sua attitudine si è fatto condurre al macello come un agnello. Come un agnello. E allora se siamo cristiani e sentiamo montare in noi lo sdegno, l'odio, il disprezzo nei confronti di chiunque, massimamente di quelli che sono nostri nemici, di quelli che ci portano dinanzi ai re, ai governanti, anche i parenti che spesso ci possono denunziare, traditi da tutti, consegnati da tutti, genitori, fratelli, parenti e amici, odiati da tutti, il cristiano come risponde a quest'odio? Con il perdono, con l'amore. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non lo sanno. Continua Santa Caterina da Siena, da Alessandria, parlando di questa bellezza, dice, or bene, dice a Santa Metilde, sappi che questo splendore si rinnova e si accresce ad ogni santa comunione. Chi si comunica una volta raddoppia questo splendore, ma chi si comunica cento e mille volte altrettanto aumenta questa bellezza dell'anima sua. E questo ci deve far riflettere tanto più in questi tempi in cui spesso la comunione la prendiamo spirituale attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Sì, è già qualcosa, ma non è la presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento. Non è la presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento che rinnova e fa risplendere l'anima nostra, la fonte della grazia. è tutta lì nel Sacramento dell'amore di Dio. Il Sacramento dell'amore di Dio. Perché? Perché Dio ha donato tutto se stesso a noi nel Sacramento, nel Santissima Eucaristia. Allora, se abbiamo modo, andiamo a fare la comunione, andiamo fisicamente a fare la comunione. perché finisce Gesù nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Possono torturarci, possono ucciderci. A Santa Caterina d'Alessandria l'hanno messa in una ruota dentata e ne hanno straziato completamente le carni. Completamente. però Gesù ci assicura che neanche un capello del nostro capo andrà perduto. Perché? Perché è Lui che crea tutte le cose. Lui che conosce non solo tutti gli uomini e tutte le donne mai esistiti ma anche tutti e singoli gli atomi di cui ciascuno di noi è composto. Nulla sfugge al Signore Onnipotente. Nulla. E se persevereremo fino alla fine beh allora salveremo la nostra vita e la nostra anima anche se il corpo andrà in disfacimento ma il corpo è destinato a sfaldarsi ciò che dobbiamo salvare è l'anima salvarla dai nemici dell'anima interni ed esterni interni il nostro peccato esterni tutti coloro che come ladri come furfanti vogliono rubare la carità nell'anima nostra lo dicevo ieri lo ridico oggi e lo ridirò sempre cari fratelli e sorelle non ci serve a niente tutta la dottrina di questo mondo tutti i discorsi capziosi la sapienza dei teologi non ci serve a niente se non abbiamo la carità siamo nulla siamo vuoti siamo morti perché la carità è la vita dell'anima perché la carità è Dio è la vita eterna allora cari fratelli e sorelle questo dobbiamo pregare ogni giorno e chiedere al Signore oggi con l'intercessione di Santa Caterina d'Alessandria di resistere di perseverare perseverare ogni giorno nella carità e nell'amore di Dio affinché possiamo giungere a quel giorno in cui in cui verremo giudicati proprio sulla carità proprio sulla presenza di Dio in noi quel giorno in cui il Signore ci guarderà e se guardandoci vedrà la sua presenza l'immagine della Santissima Trinità il suo figlio benedetto formatosi in noi per una vita santa e martire perché vissuta con testimonianza beh potremo potremo udire il Signore e dirci veramente vieni figlio mio nel regno che t'ho preparato dall'inizio dei secoli siano lodati Gesù e Maria Gesù e Maria Gesù e Maria Gesù Dios